buonasera a tutti e benvenuti tutti contro amazon e che cosa ci ha fatto di male amazon premessa da tanto tempo amazon credo che tutti noi lo si conosca grande azienda multinazionale internazionale il proprietario l'uomo più ricco del mondo la distribuzione capillare in tutto il mondo di tutto banalmente è così la distribuzione quindi vuol dire il trasporto quindi vuol dire la consegna quindi vuol dire la protesta in questi giorni anche in lombardia tutti i lavoratori sigle sindacali schierate turni incessanti lavoro massacrante ritmi frenetici impossibilità di poter eseguire al meglio magari le consegne protesta 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 ora evitando la questione del colosso cattivo che magari è anche cattivo ma ci penserà qualcuno a punire un colosso cattivo magari dal punto di vista fiscale se non è in regola con le tasse intervenga lo stato italiano lo stato francese lo stato spagnolo gli stati uniti giù a punire sanzionare chi non paga le tasse quello non è un problema che ci interessa colosso cattivo perché perché lavora tantissimo ed è arrivato a livelli incredibili per quella che è la distribuzione dei propri prodotti facciamo una colpa di tutto questo ma sì da un lato evidentemente se si va in piazza e si va a protestare no dall'altro se come consumatori poi ci serviamo delle dell'opera di amazon per acquistare i prodotti che ci interessano ci arrabbiamo se magari digitiamo sul computer quel paio di scarpe quel vestito quel computer quel libro e vediamo che magari se ci dicono arriva tra due giorni e poi il secondo giorno non è arrivato siamo già lì con il computer a digitare a dire perché non è arrivato il pacco dove è finito il pacco avevate detto due giorni ma non è arrivato ma come si fa ma non va bene e questo nostro digitare sul computer inevitabilmente si riverbera sugli omini sulle macchinine sui furgoncini con tutti gli scatoloni che vanno incessantemente da una parte dall'altra portano scaricano caricano consegnano ritirano fanno per cercare di assecondare la nostra voglia di consumatore che sul computer diciamo è però ma qui due ore tre ore c'è ritardo non capisco non va bene ma perché si fa così quindi la colpa che noi diamo ad amazon di voler sfruttare questi lavoratori di volerli far lavorare in ore incredibili correre per cercare di in realtà nasce dalla nostra aspettativa di ricevere presso la nostra casa il nostro ufficio quel bel pacco che abbiamo digitato sul computer senza aver avuto minimamente voglia di camminare di andare in qualche negozio per magari vedere se così lo stesso prodotto magari ad un prezzo diverso o meno ma comodamente seduti in casa chiamare amazon e dire aiuto aiuto voglio quella cosa lì me la devi portare in quei tempi quindi diventa un po un contrasto perché ora se da un punto di vista lavorativo contratuale i contratti non sono regolari da un punto di vista giuridico allora benissimo protesta causa ridimensionamento di certi contratti salvaguardia dei diritti dei lavoratori non è una critica la mia amazon deve fare tutto bene ovvero lavoratori pagati orari regolari contratti regolari e tutto il resto e pagare le tasse dove deve pagare le tasse ma se l'accusa che facciamo ad amazon è di far lavorare tanto tutti in orari incessanti tutti è perché noi per primi vogliamo tutto subito in maniera incessante in quel momento perché ce lo siamo ordinato siamo noi che vogliamo di fretta e di fretta vogliamo che tutti gli altri intorno ad amazon corrono per portarci le cose quindi gatto che si morde la coda situazione di 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 ricircolo di ragioni contrastanti facciamo un piccolo esame di coscienza perché noi abbiamo scelto questa tipologia di acquisto che peraltro diventa anche un po tra virgolette una sorta di droga cioè nel senso che una volta scoperto il giochino scoperta la possibilità di accedere scoperto il metodo scoperto come si fa ci abituiamo sempre di più a non uscire di casa non cercare le cose fuori ma a chiederle direttamente dalla nostra sala da pranzo o salotto digitando lamentandoci chiedendo rimanendo chiusi in tutto questo ma se noi facciamo così se questa è la nostra mentalità è normale che dall'altra parte le persone debbano correre tanto 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 e allora troviamo una soluzione che non sia soltanto l'accusa puntare il dito siete cattivi cattiva amazon perché sfrutta mi vengono in mente i cinesi ai tempi delle ferrovie negli stati uniti ecco i neri nelle piantagioni di cotone questi uomini esami di coscienza ecco accusiamo amazon per tutto quello che vogliamo se ne abbiamo diritto ma insomma un po anche di autocritica sul fatto che poi ci piace ricevere tutto sempre al volo senza un minuto di ritardo grazie 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 grazie